Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi siamo su The Sims 4. In questo episodio vorrei iniziare a sviluppare le relazioni amorose dei nostri adolescenti e magari partiamo proprio da Mattia e Matteo. Intanto lui sta lavando i piatti, bravo. Loro fanno i compiti, anche Matilda sta facendo i compiti e invece lei sta sperimentando, credo, oppure analizzando. Sultati interessanti, bravo, che così mi aumenti un po' anche l'abilità di logica. Beh, direi magari di aspettare che passi la sera prima di iniziare le relazioni amorose. Magari proviamo anche a chiedere degli appuntamenti. Non sarebbe male un bel pranzo romantico. Oh, lui ha fame! Allora, i compiti li hai finiti, quindi mettili pure nell'inventario. Buttiamo via anche il cibo avariato. Anche qui i compiti sono finiti, quindi puoi metterli via. Ah, c'è qualcosa di pronto? Forse questi, sì. Proviamo a chiamare a tavola, dovrebbero bastare per tutti. Vediamo chi arriva. Forse l'unica che non viene è Sara. No, eccola, sta salendo. Arriva? Eccola! Forza, mangiate tutti insieme, poi andiamo a dormire. E appena si fa mattina... Ah, però aspettate, perché è martedì... Quindi loro vanno a scuola. Eh, no, niente, sarà un appuntamento nel pomeriggio, allora. Per forza, perché dobbiamo aspettare che ritornino a casa. Oh, che bravo, lui che lava tutti i piatti! Va bene, dai, intanto mandiamo tutti quanti a dormire. Dormi... Ah, deve andare in bagno, aspettate. Usa... E poi dormi. Anche lei può andare a dormire. Lo so che non hanno tanto sonno, però almeno così passa più in fretta la notte. Questo qua lo possiamo riporre in frigo. Si è rotto qualcosa? Forse il butter, che vedo un po' di acqua sparsa in giro. Bene, loro sono andati a letto. Accidenti, il lavandino! Eh, vabbè. Ce ne hai soldi? Beh, sì, dai, 120 possiamo anche spenderli. E aspettiamo. Qualcuno si è svegliato? Chi? Sara, ti sei svegliata? No, ma puoi dormire ancora. No, no, ho sbagliato. No, 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 ho sbagliato, ho sbagliato. Non volevo, Matilda. Ho sbagliato letto. Qualcun altro che si è svegliato? Lui, poverino, deve andare in bagno. Vai, corri. Dai, che è quasi mattina. Infatti, ormai non hanno più sonno, quindi... Ah, vediamo. Lei ha per lavoro, cosa dovrebbe fare? Beh, questo l'abbiamo già completato. Dovresti essere concentrata, ma dai, prepariamo la colazione. Cuciniamo. Insalata giardiniera. Cosa possiamo cucinare? Beh, le uova e toast. Oppure anche un tramezzino. Uh, deve andare in bagno, lui. Sta già andando, forse sì. Bene. Sono pronti i tramezzini, quindi chiamiamo sempre a tavola. Ormai penso che si siano svegliati tutti. A parte lui. A che ora è che comincia la scuola? Alle otto, fra due ore, va bene. Eccoli qua, infatti. Fra un'ora vanno tutti a scuola. Vediamo se lei ce la fa ad andare in bagno prima. Non avete bisogno di socialità, chiacchierate. Complimento sincero. Allegra. Eccoli qua, loro devono andare a scuola. Accidenti, il lavandino si è rotto. Forza, fai a scuola anche tu. Qua quasi, quasi, lo riparo. Sì, perché altrimenti finiamo tutti i soldi. Bene, loro tre sono andati. Abbiamo raggiunto anche il livello due di manualità. Ottimo. No, non partecipiamo. E non partecipiamo. Bene. Aspettiamo le tre, che tornino tutti a casa. Eccoci qua, perfetto. Sottoscibiamo un po' i loro bisogni e poi organizziamo un bel appuntamento. Vieni qua, fai zapping. Anche tu fai zapping. E chiacchierate. Bene, si stanno divertendo. Il telefono che suona, chi è? Lorenzo! Però... A quanto pare è lui che fa la prima mossa questa volta. E allora sapete cosa? Visto che è stato proprio lui a invitare Matilda, in questo episodio iniziamo la loro relazione. Matteo e Mattia sarà per un'altra volta, ma questo appuntamento non me lo lascio sfuggire, visto che è stato proprio Lorenzo a chiamare Matilda. Forse c'è già un'attrazione tra loro due? Eccoci qua. Festeggiare con gli amici del club. Beh, che dite? Iniziamo già? Magari... Cominciamo a conoscerlo. Bene, chi dite la sua giornata? Com'è la loro relazione? Beh, è buona, dai. Siamo già a più di metà. Però non si conoscono ancora bene. Spettegola! Racconta una storia buffa. Oh, esprimi ammirazione. E poi dai, iniziamo con qualcosa di romantico. Chiediamo se è single prima di tutto. Poi complimentiamo l'aspetto. No, rivela la cotta, ancora no. Tlertiamo. Funziona? Ok, lui è singolo, ovviamente. Ok, sta accettando i nostri complimenti. Bene, sembra ricambiare il flirt. Ah, complimentati sempre per l'aspetto. Romantico. Scambia i numeri di telefono! Sì, sì. Tanto lei è tornata a casa. Sono diventati anche buoni amici. Perché c'è il fantasma di Lady Mimsy là che balla. Che fate? Vi scambiate il numero? Eccolo che è arrivato. Oh, si stanno già innamorando! Bene, 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 dai. Funziona! Flirtiamo sempre un pochino, è attrascente. Battuta di abbordaggio audace. È romantico! Manda un bacio! Bene, sì, 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 sì. Dai, si stanno innamorando. Tieni le mani! Ci sarebbe anche già il primo bacio, però mi sembra un po' troppo azzardato al momento. Proviamo sempre una battuta di portaggio. Lui dove va? Dove vai? Vieni qua! Ma cosa? Tenta di sedurre. Non ce lo facciamo sfuggire. Complimentati per l'aspetto. Romantico. Stringi. Però questo non mi sembra un luogo molto romantico in realtà. Con questa musica, poi, non si sente niente. Non si può andare tipo qua? No, nella piazza. Era carina la piazza. Dai, venite qui. Tutti e due. Vai qui insieme. Era carina la piazza. No! Perché, Erika? No, cosa c'entra lei? Altre scelte? No, non club, ma azioni. Rimuovi dal gruppo. Dov'è Lorenzo? Vieni qua. Eccolo qui. Orza. Rivela la cotta. Sì? Sì, dai, ricambia anche lui. Riprendiamo allora con le interazioni. Flarta. Tieni la mano. Dai, che si innamorano. Eccoli. Offri una rosa. Sempre romantico. Complimenti tipo l'aspetto. Uh, chi è diventare il fidanzato? C'è già. C'è già. Altre scelte. Ah, bosa sexy. Ah, chi della vita sentimentale? Che dite, proviamo con il primo bacio? Quasi, quasi. Io ci proverei. Dai. Mi sembra che la relazione sia andando bene. Dovremmo farcela. No, però stanno chiacchierando. Primo bacio. Su. Sì. Ed eccoli qua. Ce l'hanno fatta. Si sono innamorati. Gli chiediamo anche di diventare il fidanzato? Fai, fai, fai no. Fai una scappatella del cespuglio. Allora, andiamo con ordine. Prima il baciamano. Poi chiediamo di diventare il fidanzato. E si accetta. Sì, ha accettato. E allora... E allora la scappatella, ma dove andate? Giusto per sapere. Dove andate a fare la scappatella? Ah, appunto, non c'è. Mi avevi detto che non c'è spuglio. Aspetta, dove va? Dove va lui? Eccolo qua. Fai una scappatella nel cespuglio. Dove vanno? No, non chiacchiera. Ma dove andate? Riproviamo. Fai una scappatella nel cespuglio. Ce la facciamo. Arrivederci. Ah, se ne vanno tutti. Arrivederci. Va bene, grazie. Che arrivederci! No! Dove vai? Forza, vieni qua! Scambia lei di finanziamento. No, barcio appassionato. Trattienilo! Non deve sfuggirci! Un'altra scelta romantico. Forza! Ce la facciamo? Dai, che lui è super innamorato. No! Ma come no? Ma scusami, se mi hai appena detto fai una scappatella nel cespuglio vuol dire che c'è un cespuglio qui nei dintorni. Non puoi dirmi di da ora! E se no andiamo insieme dove c'è un cespuglio, però... Se mi da questa interazione vuol dire che un cespuglio c'è. Non so dove. Non lo vedo. Però da qualche parte c'è. No, io sinceramente non lo vedo. Proviamo allora ad andare in un altro lotto? Dai, proviamo. Ormai voglio vederla questa interazione. Quindi facciamo viaggia. E andiamo nella zona delle colline. Là dovrebbe esserci un cespuglio. Eccoci qua. C'è un altro fantasma? L'aldilà può essere tetro. Vieni a raccontare tutto il barista del posto e goditi delle libagioni scontate. È la notte dei fantasmi. Wow, siamo anche capitati nella notte dei fantasmi. Infatti, ma salve. Va bene. Però a me servirebbe un cespuglio. Eccolo qua. Eccolo qua. Forza su scappatella con Lorenzo. Ce la fate questa volta? Va, da che cosa? Sempre gli uccellini che scappano, poverini. Bene. Caldo e intenso al dolce tocco condiviso di un altro sim. Bene, con loro la relazione è partita alla grande. E poi, negli scorsi episodi mi avevate scritto nei commenti che per Lorenzo, visto che lui ha il tratto geloso e anima gemella, lo vedevate più adatto con degli abiti, diciamo, da playboy. Però aspettate che prima forse è meglio mandarli a casa. Magari. Facciamo un bel bacio appassionato e poi andiamo a casa. Appunto, dicevo, mi avevate scritto che Lorenzo poteva avere degli abiti più da playboy, comunque da attirare l'attenzione delle ragazze. Ma in realtà è l'esatto opposto, perché lui, avendo l'aspirazione anima gemella e il tratto geloso, lui vuole un'unica ragazza. Vuole appunto trovare la sua anima gemella con cui passare il resto della sua vita ed è geloso se la vede con degli altri. Quindi, lui non è un playboy, anzi, l'esatto opposto, lui vuole una sola ragazza. E il problema qual è? Beh, bisogna vedere se anche la ragazza ha la stessa idea, quindi vuole trovare un unico fidanzato o magari più di uno. Eh eh eh, noi sappiamo che la nostra Matilda è tanto carina fuori principessine, ma dentro ha un cuore malvagio. Chissà come andrà avanti questa relazione. Bene, siamo tornati a casa, quindi la manderei subito in bagno, poverina, che non ce la fa più. Intanto voi state socializzando, bravi. Eh, mi spiace, lo so che voi volevate passare una bella serata con delle ragazze, ma è andata così. Questa volta è stato il turno di Matilda, dai, un'altra volta toccherà a voi. Nel frattempo, avete fatto i compiti? No, quindi andate e fate i compiti. Lei sta bene? Sì, allora vai sempre a esercitarti con l'analisi. E lui sta dormendo. Ci sarebbe questa da buttare via. Quasi quasi, se hai tempo, buttalo via. Eh, energia, sonno. Però mangiamo qualcosa prima. Tanto abbiamo anche scoperto un nuovo elemento. Bene, lui è finito di fare i compiti. Metti l'inventario e vai in bagno. Eh, no, meglio che prima lo pulisci e usi anche lo sciacquone. Ok, lei è a posto. Però non si è fatta la doccia. Anche lui ha fatto i compiti, bravo. Benissimo, Mattia ha sistemato il water. E allora puoi andare a dormire. Anche lei sta finendo di farsi la doccia. Potresti anche asciugare per terra. E poi puoi andare a letto. Lei sta ancora analizzando? Sì. Va bene. Allora, visto che sono andati tutti a dormire e tu avresti bisogno di divertimento, magari svegliamo Stefano. Si può? Sì, sveglia. E poi vi divertite un pochino. Bene. Avresti bisogno di una doccia. E allora vai. Ah, la doccia ripara lassù. Vabbè che avremo anche i soldi, adesso ho visto. Però vabbè, ormai è quasi finito. Bene, anche la doccia è riparata. E puoi tornare a dormire. Va bene, io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Abbiamo quindi iniziato la relazione di Matilda con Lorenzo, che come vi dicevo, probabilmente sarà una relazione così un po' turbolenta. Lui sicuramente sarà innamoratissimo, grazie anche alla sua aspirazione anima gemella. Lei bisognerà vedere se si accontenterà solo di Lorenzo, ma vedremo poi nei prossimi episodi. Quindi ci possiamo fermare qua. Lasciate un piaccio e un commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!